È tempo di bilanci, possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti, la manovra per la lotta all'evasione fiscale ha anche permesso una redistribuzione sui contribuenti. Sì, sono tre anni che lavoriamo su questo piano, nel senso che lotta all'evasione fiscale in maniera molto serrata e redistribuzione al contribuente di una parte di quello che abbiamo recuperato. Anche quest'anno, per il terzo anno di fila, all'approvazione del regolamento per la concessione del suolo pubblico, il COSAP, proponiamo delle diminuzioni di tariffe. Nello specifico proponiamo di tagliare del 30% il canone del suolo pubblico per la zona esterna, la zona 1 del piano del commercio e abbassiamo la penalizzazione per i grandi Deor dal 100% di aumento al 50%. Quindi un aiuto ai grandi Deor, ma anche a tutte quelle attività che hanno concessioni al di fuori del centro storico. Naturalmente per il centro storico manteniamo invariato il tributo, è una manovra che cuba circa 70.000 euro, quindi molto importante. Ecco, da sottolineare anche come il debito dell'amministrazione dal 2007, dall'anno dell'insediamento, stia fortemente diminuendo. Sì, è un'azione di lungo periodo questa, una gestione molto attenta delle politiche di bilancio, ci ha portato ad avere un debito che nel 2007 era intorno agli 80 milioni, a fine di quest'anno arriveremo a 53 milioni, quindi una sostanziale riduzione, nonostante la difficoltà che gli enti locali hanno avuto in questi anni, con una riduzione costante di trasferimenti. Questo è il primo anno nel quale non dovremo avere tagli dei trasferimenti, e quindi speriamo di affrontare in maniera un po' più serena il bilancio del prossimo anno.